C'è anche Biccari, tra gli oltre 60 piccoli comuni italiani, che il prossimo 30 settembre celebreranno la terza giornata nazionale dei Borghi Autentici. Una vera e propria festa diffusa su tutto il territorio nazionale, ispirata quest'anno al tema del cibo e del vino, orgoglio di comunità, che metterà in mostra le eccellenze dei comuni che aderiscono all'importante associazione. Come di consuetudine, ricchissima l'offerta del piccolo comune dei Monti Dauni, che grazie alle collaborazioni con la cooperativa di comunità Dauni Avventura e Proloco di Biccari propone un'intera giornata all'insegna della natura, dello sport, dell'enogastronomia locale, della cultura, della musica, dello spettacolo e del divertimento. Si comincia in mattinata con l'escursione nei boschi di Monte Cornacchia alla ricerca dei tartufi organizzata dalla cooperativa di comunità e si prosegue con l'open day al Parco Avventura, con la possibilità di vivere l'esperienza dei percorsi acrobatici sugli alberi a prezzi convenzionati per tutti gli amici dei borghi autentici. Nel pomeriggio spazio alla cultura con la presentazione del libro La terra dei giganti, avventure sotto una pala eolica, con l'autore Francesco Gasbarro, che dalle 18 dialogherà con Francesco Grillo nella piazzetta del centro storico di fronte al municipio, luogo tradizionalmente dedicato agli incontri culturali. A seguire il momento centrale della festa, con l'attesa sagra della pizza a forno aperto, il buonissimo prodotto tipico, certificato Deco, simbolo della tradizione gastronomica locale, con l'animazione musicale della Rizza Band, la coloratissima orchestra di strada formata da giovani ragazzi della vicina Troia. Conclusione in piazza Umberto I alle 22, con il divertentissimo spettacolo di Cabaret di Santino Caravella, che con le sue simpatiche canzoni dedicate alla Puglia e ai Monti Dauni, è diventato un vero e proprio testimonial della nostra terra, e l'artista migliore per chiudere in bellezza una giornata dedicata ai borghi e all'autenticità.